Pronto? Zia Maria? Sto lavorando, dimmi. Vuoi cambiare la camera da letto? Fai bene. Quella che tieni si ricordi il 15-18. Vai da Euromobili a quarto. Ti rivolgi a Don Vincenzo e frutti vendolo. E che c'entro con la camera da letto? Ne capisce? Zia Maria, allora perché quando devi fare un peragù non chiami lo scarparo? Ma che mentalità è questa? Vai da Euromobili a quarto. Mi raccomando però non dire che sei mia zia. Mi raccomando. Perché fare le cose difficili quando sono facili facili?